E' il giolese Giuseppe Ricata, già segretario del Circolo Gela Città e anche consigliere provinciale del PD, il nuovo presidente provinciale di Sicilia Futura. E' stato eletto sabato scorso nell'ambito dell'incontro che si è svolto a Caltanissetta. Il movimento politico fa capo all'ex ministro Salvatore Cardinale, presente tra gli altri l'ex assessore della giunta Fasulo Giuseppe Ventura tra i fondatori di Adesso Gela. E' evidente che ora ci aspetto un lavoro fatto con responsabilità, abbiamo detto, in cui non gela soltanto la mia scelta personale, c'è una scelta collettiva di tanti uomini e donne che credono fermamente di poter sviluppare le politiche attive per la città. Hanno questa passione per la politica. Evidentemente, dinanzi a un ambiente sorda, a volto stile, in una fase in cui gli schemi attuali della politica non consentono sufficiente vitalità, Noi riteniamo e siamo sicuri che Sicilia Futura rappresenterà un grande spazio di libertà, di autonomia, uno spazio di vitalità in cui fare veramente politica, inaugurare la politica dell'ascolto. Ho detto che i partiti tradizionali hanno perso proprio questa indole. Inaugureremo la politica dell'ascolto e dell'incontro. In realtà, ascolto e incontro cominceremo ad attivarci nei vari paesi della provincia, anche a Gela, dove inaugureremo questa fase congressuale con i congressi e i cittadini. Sicilia Futura che apre soprattutto agli esponenti RPD? Sicilia Futura apre a tutte quelle persone che, essendo libere, che non sopportano più una prepotenza, un'arroganza politica, una politica chiusa, incapace di riformarsi, incapace di cogliere anche quello che è il cambiamento della trasmissione sociale, di essere poco inclusivi, diciamo, tendenti ad escludere. Noi gludiamo tutti, è uno spazio aperto. Noi vogliamo essere protagonisti con il principale obiettivo di avanzare delle idee e avanzare dei progetti. E soprattutto di essere riformisti, diciamo, iniziare quella che è per noi un'attività di riforme anche a livello regionale della politica. Ma a livello proprio locale, Sicilia Futura come si inquadra nel contesto politico? Faremo il congresso cittadino. Sicilia Futura c'è l'interessamento forte, evidente e chiaro del polo civico. Faremo sicuramente un gruppo consigliare e in prossimità si chiama, dopo il congresso cittadino, allargheremo ad altre forze politiche. Più che forze politiche le chiamo a tanta gente che ci chiama, che vuole tornare a fare politica, ma dove nei partiti non riescono più ad esprimere le loro idee, vogliono essere ascoltate, vogliono incontrarci. E' chiaro che il nostro obiettivo è questo. Da qui, a breve, abbiamo due sfide. La sfida nel territorio nostro, nei territori, io parlo anche di Mazzarino, Butera, Riesi, Niscemi, nella parte sud e nella parte nord, dove inaugureremo questo grande spazio di libertà che è Sicilia Futura. E poi c'è la sfida del referendum del 4 dicembre. Nella sfida tutta siciliana nei territori c'è Gela e Gela sarà protagonista con il suo gruppo consigliare. La decisione assunta dai consiglieri comunali di Reset 4.0, Luigi Di Dio e Francesca Caruso, in merito all'approvazione del bilancio di previsione 2016, non è affatto piaciuta al presidente del movimento politico, Maria Ferrera. Il voto favorevole, dice Ferrera, è da considerarsi una valutazione di conseguenza o una decisione strettamente personale, non frutto di una preventiva analisi con il direttivo. I due consiglieri non ci hanno comunicato al direttivo di Reset le intenzioni che avevano in merito al bilancio. Noi non ci riuniamo da un po', non per mia mancanza, ma perché evidentemente i consiglieri hanno preso una direzione che non coincide con quella del direttivo. Avrei preferito in queste situazioni, visto che si deliberava una cosa importante per la città, avrei preferito che loro chiamassero, che ci riunissimo e che condividessimo assieme la decisione da prendere. Non dico che il bilancio non doveva essere votato favorevolmente e neanche sfavorevolmente, ma quantomeno quando si condividono delle scelte si discute e si va nella direzione univoca. Per Maria Ferrera si tratta di un'occasione mancata perché poteva essere motivo di dibattito e di confronto al fine di inserire punti programmatici presenti in Reset 4.0. Una distruzione in tal senso non c'è stata, i consiglieri hanno scelto per loro libera scelta. Maria Ferrera esorta i consiglieri di Dio e Caruso a condividere le decisioni future con il gruppo Reset 4.0 e a tenere sempre presente che lo stesso è stato e continua ad essere opposizione alla giunta comunale. Reset nasce come opposizione a questa amministrazione, i consiglieri sono tenuti a rendere conto al Reset 4.0, quindi ci possono essere margini per rientrare un po' nella prospettiva. Con Luigi c'è stato uno scambio di messaggi e siamo arrivati alla conclusione che chiariremo quanto prima. Sono stati accolti nell'aula consigliare del Palazzo di Città gli atleti della Nazionale Italiana Special Olympics che dallo scorso 28 ottobre si sono allenati sulla spiaggia di Gela al fine di preparare nel migliore dei modi la partecipazione ai campionati mondiali invernali che si svolgeranno in Austria nel marzo del 2017 nella disciplina della corsa con le racchette da neve. L'iniziativa giolese è stata promossa dalla associazione Orizzonte di Natale Salucci. Stiamo portando uno sport che qua penso non si veda abitualmente sulle spiagge di Gela e devo dire che la risposta sia da parte di chi ci ospita, della popolazione e da parte dei ragazzi soprattutto che si stanno allenando con molta energia e molta voglia è ottima. Abbiamo voluto dare il giusto merito per la fatica che viene fatta per consentire a tutti di dare la possibilità di fare attività fisica, di integrarsi, di crescere, di relazionarsi. Un'attività importante che supera quelle che sono i confini della città di Gela grazie a questa intensa attività e per il buon lavoro svolto all'interno del nostro territorio dai volontari dell'associazione Orizzonte sono venuti a trovarci alla nazionale italiana di Special Olympics per le racchette da neve che si sta allenando lungo le nostre spiagge per prepararsi per i mondiali che si avranno in Austria questo inverno. Lo sport come vediamo un'altra volta unifica, dopo Monica Contraffatto siamo qui per dare la nostra gratitudine e mostrare il nostro orgoglio nei confronti dei campioni attuali di Consuelo Ferrari e Mario Pizzardi. Adesso avremo anche un altro ragazzo di Gela che parteciperà a questi giochi olimpici che si terranno a marzo in Austria nella disciplina corsa con racchette da neve e Mario Palmeri. Il nostro orgoglio è immenso, crediamo che in queste attività possono dare grande ricchezza alla città di Gela e veramente riuscire a creare una rete affinché queste attività si diffondano sempre di più e più che altro si diffondano anche nel nostro cuore. I ragazzi della nazionale hanno avuto a disposizione le strutture del Club Vela per momenti di relax, gioco, incontri tecnici e momenti di socializzazione grazie alla disponibilità del presidente Luigi Nastasi. Noi siamo veramente felici di ospitare questi ragazzi e con questo credo che abbiamo vinto una grossa scommessa che abbiamo fatto con Natale Salucci, quindi il responsabile di Orizzonte, la stazione Orizzonte, lo quale quest'inverno diceva ma ce la facciamo o non ce la facciamo, noi ce la mettiamo tutta e credo che il Club Vela abbia dato la dimostrazione come un club privato si possa aprire alle proprie strutture per un qualcosa di molto più grande, di molto più importante. Controlli porta a porta per la corretta pratica della raccolta differenziata dei rifiuti a Gela scatteranno dal lunedì 7 novembre. Agenti della Polizia Municipale ed operatori della Tecra appureranno che i sacchetti dell'immundizia conferiti rispondano all'ordinanza emanata lo scorso mese di agosto dal sindaco Domenico Messinese. La prima zona urbana interessata dal monitoraggio sarà a Capo Soprano nel quadrante compreso tra Via L'Indipendenza, Via Europa, Via Francia e Via Palazzi. È una risposta nel rispetto di chi fa la differenziata correttamente. È chiaro che l'obiettivo imposto dallo Stato è il raggiungimento del 65% della differenziata. Oggi siamo intorno al 50%, occorre aumentare diversi punti percentuali per cui è necessario che l'indifferenziato, cioè il secco residuo, venga ridotto al minimo aumentando le quote differenziate. Per fare questo è chiaro che ogni cittadino deve impegnarsi così come sono impegnati il resto della popolazione che ci ha consentito di raggiungere questo obiettivo molto sfidante, il 50%, è chiaro che tutti quanti dobbiamo fare il nostro dovere e quindi i controlli saranno puntuali, porta a porta, per verificare che ognuno faccia il proprio dovere. E come saranno articolati questi controlli? Fondamentalmente il personale della Tecra nel ritiro dei rifiuti farà una ricognizione per segnalare quali sono i sacchi indifferenziati che sono anomali rispetto alla giornata di raccolta. Successivamente la Polizia Municipale effetturà un controllo dei sacchetti aprendoli e verificando i contenuti e la provenienza. Dopo il controllo l'ende gestore della raccolta dei rifiuti passerà a ripulire l'aria. Come si risalirà agli autori, a quelli di quali non rispettano le regole? Ogni rifiuto è riconducibile nel limite del possibile alla provenienza del proprietario, quindi la Polizia Municipale sa esattamente come deve fare a risalire. E cosa rischiano? La sanzione è prevista dall'ordinanza del sindaco emessa ad agosto che fa riferimento alle leggi specifiche in materia di normativa sui rifiuti. Il Comune di Gela si attiva in merito alla distribuzione dell'acqua in città e delle ultime ore la notizia è che sono stati presentati dei progetti. Il sindaco Domenico Messinese Siamo riusciti a far validare dei progetti che sono già la regione siciliana per aumentare le portate e quindi modificare le condotte che arrivano alla città per poter finalmente superare il problema della turnazione. Quindi questo è un passavante a livello di investimenti che di fatto consente di dare una risposta al problema idrico, problema che da noi è molto seguito, abbiamo nominato John Legale che sta seguendo diverse problematiche, tra cui anche il caro acqua perché non si riesce a capire come mai le bollette sono lievitate ma gli investimenti non sono stati fatti. Si sta intervenendo con un caltacqua che sta visionando e spezzonando la condotta di via Venezia, sta facendo una serie di domini per poter fare ripristinare la sezione idraulica come anche sul lungomare. Interventi che noi riteniamo che comunque sono momentanei perché la soluzione è quella di fare le infrastrutture che sono previste da oltre 15 anni e che ancora non sono state realizzate. È chiaro che dopo tanti anni di immobilismo questa spinta che viene data all'amministrazione viene vista come se fosse una contrapposizione con caltacqua. Noi vogliamo che caltacqua lavori bene e che faccia quello che deve fare, dare l'acqua ai gelesi. Il primo cittadino interviene anche sulla vicenda della fornitura idrica nelle ore notturne a Gela. Come si ricorderà, Messinese aveva messo un'ordinanza che imponeva alla società che gestisce il servizio idrico in provincia di non fornire l'acqua alla notte ma in orari diurni. Erogando l'acqua nelle ore notturne, diceva l'ordinanza, si obbligavano gli utenti ad azionare i sistemi di accumulo in orari decisamente poco agevoli. Questa è una vicenda giudiziaria. Ho fatto un'ordinanza in tal senso che i poteri più forti di quelli comunali hanno deciso in prima istanza al TAR di sospendere questa ordinanza. Noi abbiamo fatto ricorso al CGA e siccome siamo fiduciosi nelle leggi sono sicuro che il CGA darà ragione all'amministrazione anche perché nel primo caso non c'è stata data né la possibilità di difenderci e ancora la cosa più grave è che le motivazioni sono per me assurde perché è stato detto che la notte le tubazioni possono dare l'acqua e di giorno non resisterebbero. Quindi vorrei sapere come mai le tubazioni dal giorno alla notte vengono sostituite. Notiamo da quello che lei dice che non c'è feeling proprio con Caltacco. Ma io non devo essere né innamorato di Caltacco né tantomeno lo devo odiare. Io devo avere da Caltacco un servizio, un servizio che i gelesi pagano, pagano profondatamente ma che di fatto non hanno. Quindi io credo che sia giusto pagare ma credo che sia giusto avere pure il servizio. Votare la sfiducia al sindaco Domenico Messinese e all'assessore Simone Siciliano. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle torna alla carica e come dall'arresto accaduto in altre occasioni lo fa in maniera assai diretta elencando le manchevolezze di chi gestisce l'ente comune. Questa è la giunta che incarna in sé qualunque violazione di principio democratico. Propone un bilancio e lo propone con un sistema che lo rende immodificabile. Diciamolo subito ai cittadini. Nessuno ha potuto toccare questo bilancio. Questa è una giunta tra l'altro molto anomala perché parla il vice sindaco, un soggetto che mai è stato eletto e dichiara degli orientamenti politici, dei fantomatici orientamenti politici di centro non subito chiari. Ci chiediamo il sindaco che si abbia fatto che è stato l'unico soggetto eletto. Lo fa tradendo quello che è il mandato elettorale perché la giunta, il sindaco, si sono presentati ai cittadini con il Movimento 5 Stelle e con un programma specifico e lo fa in maniera assolutamente antidemocratica. Queste sono delle ragioni chiarissime per le quali chiedere la sfiducia e poi c'è una verità assoluta. I cittadini lo stanno vedendo che questo è un sindaco che non porta benefici alla città. Un esempio solamente. Avevamo chiesto di modificare il sistema di tutela delle strade rurali. Sapete che cosa fa il sindaco? Anziché proteggere le strade rurali, gli destina delle mere briciole e poi dice delle cose che non corrispondono a quelle che sono i reali orientamenti. In particolar modo, Morgana, cosa dice che a voi non piace affatto? Sostanzialmente il sindaco afferma di stare facendo dei progressi in termini di tutela dell'agricoltura, per fare un esempio, o di tutela dei servizi sociali. Ma invito tutti a vedere quali sono le somme destinate a questi ambiti. Praticamente è zero. Le cose sono due. Ma o il sindaco non ha ben chiaro che per far bene a una città serve destinate sorme importanti a determinati settori, oppure il sindaco vuole semplicemente fare uno slogan e dietro non c'è assolutamente nulla. I grillini in Consiglio Comunale, attraverso una nota, sottolineano che l'arresto della Giunta risulta politicamente non pervenuto. Basta guardare quelli che sono i media. Parla semplicemente sempre il vice sindaco Simone Siciliano. parla addirittura quando non dovrebbe neanche farlo. Lo fa quando dovrebbe parlare il sindaco. L'orientamento politico di una giunta, le linee programmatiche, quelle che sono le identità di una giunta, vanno tracciate dal soggetto eletto dalla gente, dal popolo, non da un nominato. Noi non ce l'abbiamo con nessuno. Noi facciamo semplicemente delle valutazioni politiche e in questo caso la valutazione è pesantemente negativa. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Un'ottantina di bambini disabili costretti ad attendere anche due anni per essere sottoposti alle cure riabilitative di cui necessitano la denuncia e dell'associazione H che chiede all'azienda sanitaria provinciale di intervenire al più presto. A Gela sono attualmente due le strutture che offrono questo genere di servizi, l'Aias e il centro autistici. Il consulente legale dell'associazione H, Paolo Capici. C'è un ritardo di circa due anni per il trattamento riabilitativo dei bambini che hanno problemi di autismo o di ritardo psicomotorio che è vergognoso e inconcepibile. I bambini sono, come si dice sacri, hanno una priorità assoluta. Non possiamo assistere agli sperperi dell'ASP che va spendendo i soldi per cose magari superfue e mettere i bambini in lista d'attesa per due anni. Dal punto di vista umano è una vergogna, dal punto di vista legale si rischia anche una denuncia per danno permanente. Dal nostro punto di vista se l'ASP non risponde, noi abbiamo fatto la diffida circa una settimana fa e i signori di Caltanessetta ancora non si sono scomodati né tanto meno la presidenza della regione rappresentata dal nostro concittadino Crocetta pensano di avere attenzione per questi bambini. Se non lo faranno loro lo faremo noi attraverso una denuncia alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti perché riteniamo che ci sia distorsione di spesa e comunque al di là di ogni giustificazione che si possa presentare non è assolutamente congepire. Qua parliamo di bambini che vanno da zero anni a due anni cioè significa non intervenire in questa fascia significa rovinare i figli dei genitori che hanno già un problema enorme. Si tratta continua a Paolo Capicci di un problema che rappresenta una fonte di grave ed irreversibile documento tanto per i bambini che per le famiglie che devono affrontare costose terapie che invece dovrebbero essere assicurate dalle ASP. i bambini non possono attendere neanche un giorno c'è uno spreco puro e crudo nella sanità bisognerebbe dare priorità assoluta a queste famiglie e razionalizzare al meglio i fondi destinati alla sanità. Un bambino in età precoce può recuperare fino all'80% delle sue capacità stiamo parlando rimarca Capici di bimbi che hanno un'età compresa fra i 3-4 mesi fino a 3 anni perdere anche un solo giorno può arrecare a questi bimbi danni irreparabili. c'è anche un altro fatto grave che nessuno sorveglia come sono ripartite le somme e le risorse umane quindi è bene che qualcuno si organizzi perché altrimenti nel giro di 10 giorni una famiglia mi ha dato incarico di agire davanti al tribunale civile per un ricorso di procedura di urgenza come si dice in gergo X700 e inoltre io sono già pronto per manifestare tutte le nostre lagnanze alla procura e agli organi competenti la giornata dell'unità nazionale delle forze armate è ricordata a scuola è l'iniziativa che si svolta oggi nell'aula magna dell'istituto Ettore Romagnoli di Gela presenti gli studenti delle classi terze interessante il dibattito al fine di ricordare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale la scuola secondaria Ettore Romagnoli è una scuola pubblica e come tale rientra nelle agenzie formative formali insieme a quelle non formali che fanno sì che poi si crei il tessuto sociale il tessuto connettivo di un paese celebrare forze armate per noi significa suggellare un rapporto privilegiato un rapporto privilegiato con il corpo di polizia con il corpo dei carabinieri con quanti difendono lo Stato con quanti nel passato in momenti estremamente duri e difficili come sono stati i conflitti mondiali hanno difeso il paese con quanti ogni giorno affrontano l'emergenza dei migranti per mare salvando vite umane proprio stanotte la notizia di un ulteriore strage 250 morti nelle canali di Sicilia noi sappiamo che le forze dello Stato intervengono nonostante l'indifferenza europea l'indifferenza collettiva ecco per noi come scuola romagnoli parlare delle forze armate celebrare loro significa dire noi ci siamo noi siamo con voi noi saremo sempre al loro fianco in bella mostra nell'aula magna anche un fucile legalmente detenuto dallo storico Nuccio Mulè appartiene innanzitutto al 1891 perché è il classico fucile emblema della prima guerra mondiale utilizzato dai militari del reggio esercito durante la guerra di Trincea poi l'ho portato perché c'è questa bella manifestazione organizzata dalla preside della Romagnoli con l'intervento di Ambra Vera una scrittrice che si occupa di questa tematica della prima guerra mondiale che ha realizzato un libro su un nostro eroe da Maggio Fischetti come le è venuta l'idea di scrivere un libro dedicato interamente ad un eroe giolese? è capitato per caso incontrare questa figura e innamorarmene Ritengo che sia un personaggio che vale la pena conoscere e perché avete presentato il libro proprio per il 4 novembre il giorno delle Forze Armate oltre che ad essere il giorno delle Forze Armate è anche il giorno in cui si celebra la vittoria della prima guerra mondiale e quindi è doveroso ricordare anche questa data e soprattutto qui a Giela con Damaggio per me è stato bello interessante perché ho fatto una ricerca di immagine storica e l'idea di mettere una storia così importante attraverso le immagini e renderla più fluibile magari ai ragazzi a gente che insomma ne capisce un pochettino di meno penso sia una cosa interessante Si chiama Campagna Amica è l'appuntamento previsto dal prossimo 18 novembre ogni venerdì in piazza Roma Gela l'iniziativa è stata presentata oggi dal sindaco Domenico Messinese dall'assessore comunale allo sviluppo economico Simone Siciliano e dal direttore della federazione provinciale Nissena di Coldiretti Massimo Primavera la storica area urbana gelese ospiterà le aziende dell'agroalimentare che proporranno ai cittadini i loro prodotti a chilometri zero piazza Roma è un mercato storico della città era un mercato vero e proprio che negli anni con l'avvento dei supermercati aveva perso quel suo fascino e quella sua centralità che noi speriamo di far recuperare far recuperare con un mercato a chilometro zero con prodotti dei nostri territori con la qualità garantita da Coldiretti un altro punto del programma che viene a essersi che si va a concretizzare un punto del programma quello del mercato a chilometri zero che era nelle nostre intenzioni da realizzare ma realizzarlo in modo corretto in modo tale da garantire realmente l'origine del prodotto e soprattutto la correttezza del trasporto e della modalità di vendita andandoci quindi ad affiancare a un'associazione della Coldiretti che in questo campo ha un'esperienza decennale è chiaro che questo è uno di quei mercatini in cui l'amministrazione si convenziona con Coldiretti per portare in un'area storica appunto come dicevi tu del mercato cittadino dei produttori che permetteranno ai cittadini consumatori finali di acquistare dei prodotti a chilometro zero possibilmente biologici certificati in cui ecco la produzione e la vendita sono certificate e garantite proprio da Coldiretti e che è riconosciuta a livello nazionale per la capacità di verifica dei suoi associati per tutto quello che riguarda la produzione e la trasformazione dei prodotti agroalimentari tra i primi espositori geolese ci sarà anche Antonio Loggiurice le cui produzioni agricole incontrate a Manfria nelle scorse settimane sono state oggetto di studi da parte dell'Università del Cile la fondazione Campagna Amica adotta un sistema di controllo rigoroso ed equo con l'obiettivo di rendere distinguibile agli occhi del consumatore le produzioni a chilometri zero Grazie a tutti Grazie a tutti